Ciao a tutti ragazzi dai play the game in un nuovo video su ForzaMotors4.5 Non gioco in multiplayer perchè ho visto che mi hanno sbattuto fuori 30 volte Non mi sembra neanche una roba normale Proviamo un attimo qua in camp... la campagna Sono comprato adesso sta macchina qui Stranamente si parte sempre ultimi C'è il range Scusate per l'assenza Nella assenza dei video però... con le feste e così Davanti ai coglioni Finchia a sorpasso... allucinante... guardate cosa fa sta macchina Stana macchinina d'oro Stana macchina d'oro Stana macchina d'oro Stana macchina d'oro Non vincevo mai così facilmente Questa difficoltà Stana macchina d'oro Strana macchina d'oro Stana macchina d'oro Scusate se... No! Se quando si gioca a questi giochi qua non riesci tanto a parlare. Vabbè, almeno vedete un po' com'è il gioco. Di una voce. Un po' strane. In caso che succedono qualche cose strane sentirete un po' di cristoni. Come vi stavo dicendo prima ho fatto una partita multiplayer. Volevo fare un video di... Ogni curva, se c'avi dietro uno, finivi in mezzo al giardino. Potevi stare lì a annaffiare i fiori con la benzina che ero qua. Se ero riuscito ad arrivare il settimo o sesto, per dirvi, eh... Nel primo giro mi ha dato un'inculata e sono sparato fuori dalla partita. La schiena qua è tanta roba. Ehi! Ihi! Ihi! è lasciato giù un quarto di gomma però fa niente state attenti che alcune volte quando ci sono quei cazzo di connetti in mezzo alla min dovete stare attenti perché se lo prendete male porco dio sta qua se lo prendete male sparate la macchina vi spara chissà dove che cazzo c'ha a che troia ecco così è come giocare a multiplayer stessa roba faccia di merda se perdo proprio adesso giuro che figa mi spacco la testa ma stai dietro vacca e vince così ma è troppo forte non è vero non è vero vabbè ragazzi spero che vi sia piaciuto questo video in forza motosport la grafica come avete visto è questa se l'ho comprata adesso ci saranno un po' di aggiornamenti se ci avete bisogno di qualcosa chiedete fate voi ok ciao a tutti ciao ciao